Negli ultimi decenni la popolazione di cinghiali in tutta Europa, nonostante la forte pressione venatoria, a dispetto delle tante metodiche di caccia messa in atto, è cresciuta in maniera addirittura esponenziale. A dimostrarlo, studi già pubblicati dove viene sottolineato che l'aumento medio della popolazione di cinghiali in Europa è stata quasi sempre superiore a 1, con picchi sino a 1,46. Vuol dire che dai primi anni 80 del secolo scorso a oggi l'attività venatoria non ha in alcun modo contenuto la crescita numerica delle popolazioni. Senza mai dimenticare che le emissioni per la caccia, le gale e non, hanno al contrario contribuito ad aumentare enormemente il numero dei cinghiali. L'attività venatoria al contrario colpisce soprattutto gli adulti e innesca risposte compensative tra i cinghiali e li diffonde maggiormente del territorio. In altre parole, la deistrutturazione della popolazione che si ha attraverso l'azione dei cacciatori comporta l'aumento del tasso riproduttivo. La riproduzione precoce delle femmine è un maggior tasso di dispersione tra i giovani, che sono poi quelli che creano più danni alle produzioni agricole. Il tentativo, sottolinea il responsabile regionale del WWF, Luciano Di Tizio, di limitare i danni alle coltivazioni aumentando la pressione venatoria, che continua a essere in Abruzzo e in altre regioni italiane la scelta privilegiata di una politica miope e che prende le proprie decisioni sulla base di impressione e non su fondamenti scientifici, è dunque profondamente sbagliata. Basterebbe confrontare l'evoluzione dei danni negli anni per rendersene conto. Sarebbe ora di finirla una volta per tutte, aggiunge il vicepresidente WWF Italia Dante Caserta, con soluzioni semplicistiche che hanno un puro effetto propagandistico e che servono più a raccogliere qualche consenso e forse qualche voto nel mondo venatorio. Insomma, per il WWF la strategia che attribuisce ai cacciatori il compito di contrastare un problema che loro stessi hanno determinato è perdente, inutile e spesso dannoso.